Vi leggo questa volta una cosa che non si potrà trovare in giro perché di questo libriccino sono state stampate solo 150 copie e basta che contengono due racconti di mio figlio, mio junior, e dei disegni di testori. Quindi anche andarlo a cercare non c'è niente da fare. E' il di più. Allora io volevo che voi, che lo sentirete in disco, sentirete cosa dice mio figlio degli 80 anni di suo padre. Anche perché sui miei 80 anni ne ha parlato tutta l'Italia, in tutte le maniere, i giornali. Questo qui invece è proprio una sua maniera di sentire gli 80 anni di suo padre. Mio figlio è un uomo, ormai ha quasi 40 anni, è un uomo che ha preso tante mie buone qualità, ma soprattutto i miei difetti. è rimasto un onesto. E' un onesto che quando parla purtroppo, dicendo la verità, non può sperare in aiuti esterni. Gli undici aiuti che avrà saranno quelli che da solo si saprà guadagnare, ma qui c'è questo grande atto d'amore che scrive per suo padre. I Votantan di Piero Mazzarella. Ah, ho dimenticato di dirvi che non è in milanese questa. È l'unica poesia in italiano, perché mio figlio non scrive in milanese, e che però riguarda me. Scusatemi. Se ormai tu hai 80 anni, noi cosa dobbiamo fare? Arrenderci? Immagina che su di te non sia mai stato detto niente, scritto niente. Facciamo per una volta meno dei soliti discorsi del figlio d'arte, gli scavalca montagna e anche del talento, l'indole, quella voce, quel fisico. Così facendo ci potremmo liberare del resto che alla fine si chiama Milano. Sei lettere ingombranti, come il teatro. Quindi finalmente basta niente più Milano dei santi crucchi che insegnano teologia a santi africani. Basta, niente. Milano spina nel culo del papato e dell'impero. Niente, niente porta, Ferravilla, Tessa, niente più teatro d'Europa, Meneghino, niente, più niente. A questo punto la visuale è più nitida e ci mostra la città per quello che è oggi, ovvero nuovamente borbonica. Eccoli qua. Corsi e ricorsi della storia. Ma stavolta senza più sostrato. E quindi difesa. Una Milano che assalta il forno delle grucce per riprendersi il tutto col cellulare e per metterlo su internet. Nella spasmodica ricerca di una prova evidente che confermi la sua esistenza. Una Milano che perde il retaggio, il dialetto, e ben le sta. Ben le sta così impara. Altro che il cuore in mano, sì. La barca dei coglioni che galleggia sul navigno e che oramai ha più cocaina che idrogeno e ossigeno messi assieme su quella barca che galleggia. se tu oramai hai 80 anni, come fai a non crollare goffo ma irriducibile fante asserragliato come in una trincea di ringhiera, ignorando che quella guerra è persa è finita. È finita! Animale dalle analogiche puzze in un ero digitale insipida anacronistico rigurgito di gambri dell'ambro. catarroso cesellatore della parola che da vita è un reale così vero a non poter essere preso sul serio. mattiniano bastardo di un guitto! Buffo artigiano barbaro dalle nebbie che non può fare a meno di bere la pozione del teatro perché ci è caduto dentro da piccolo! probabilmente il segreto della tua resistenza è che sei un paradosso incarnato così adorabile da permetterti l'egocentrismo così affascinante da concederti l'indisponenza così sensibile da accordarti il cinismo e così dotto da consentirti la cialtroneria e così così popolano da risultare snob forse un giorno fra le rovine si sederemo ancora intorno a un cerchio di fuoco tu imiterai un dio noi ti sentiremo migliori e ti ringrazieremo con un applauso che ci sentiremo che mi 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 Grazie a tutti.